Boccia il poliziotto eroe. Che vergogna! A Milano sono stati decisi gli ambrogini d'oro ed è stata respinta la mia candidatura del vice ispettore Cristian Di Martino. Ve lo ricorderete? È il poliziotto al poliziotto alla stazione di Lambrate da un immigrato clandestino. 60 trasfusioni, 5 arresti cardieci. Ha rischiato la vita. Eppure la sinistra ha bocciato il coraggio e la dedizione di un poliziotto che si è salvato quasi per miracolo. Simbolo di una categoria che ogni giorno garantisce la sicurezza di tutti noi con professionalità. Siamo al delirio. Questa è la pagina più nera nella storia del Comune di Milano per ciò che riguarda le beneminenze civiche. La sinistra antidivise è sempre più su posizioni da centri sociali e anarchici che vedono nelle forze dell'ordine un nemico da combattere. Forse però non dovrei sorprendermi. Il silenzio della sinistra sulle violenze dei centri sociali e collettivi a Bologna e a Torino, quelli contro le forze dell'ordine, è stato indecente. Sala che da tempo contesta i metodi per l'assegnazione dell'abrogino d'oro, che cosa dirà? Oramai questa sinistra è più vicina ai delinquenti che agli uomini e...